Ecco, fallo vedere che è un cuscino, il cuscino macco. È un cuscino che allevia il mal di schiena quando viene utilizzato in posizione supina distesa. Ed ha una storia particolare questo cuscino. Io sono tecnico di radiologia medica, per parte della mia vita e tuttora ho a che fare con persone che sono ammalate e qualche anno fa mi sono ritrovato dall'altra parte della baricata. Sei ammalato, hai avuto una malattia che ti ha costretto? Sono stato costretto a due interventi chirurgici, a terapia e all'interapia. Ho sperimentato su di me il cuscino perché dovendo stare a letto molte ore, questo cuscino mi dava sollievo alla schiena. Sono stati anni impegnativi, nel senso che il cuscino ovviamente ha cambiato forma, ha cambiato consistenza col passare il tempo per arrivare alla massima efficacia possibile. Quindi chi ha mal di schiena può utilizzare il cuscino, aiuta i medici, i terapisti del dolore, i fisioterapisti, osteopati eccetera a dare beneficio alle proprie cure. Tu sei molto giovane, hai quindi ideato questo cuscino, dove lo si può trovare? Lo si può trovare in internet. Grazie Marco, Marco Quadrelli, grazie, buongiorno mattino. Buongiorno mattino.